allievi in tour 2013 viene ad ascoltare i concerti dei nostri allievi che tra pochi mesi si dipomeranno 4 live in altrettanti locali 27 marzo black drop 10 aprile shoe club 17 maggio spazi aurora e concerto conclusivo 29 maggio scimmie allievi in tour 2013 per loro il futuro nella musica è già arrivato